presentiamo il percorso di gravdax a due piani spettacolo in collaborazione con il tuo fratellone Matteo Stasi l'unione fa forza wow che natalino è direttamente dal Polonob spettacolo adesso lo facciamo ogni pallina una alla volta iniziamo dalla rossa ok poi dal verde spettate c'è pure la bandiera d'Italia dal bianco e dal verde questo mi sa che è il più lungo bandiera d'Italia italiani chi c'è qua sotto? un cane da combattimento sotto al tavolo un cane da difesa molto aggressivo razza in via di estinzione chi è? questo mozzi carica questo fa male tanto attenzione adesso tutti insieme guardate che tecnologia gravdax voilà salutiamo tutti i nostri follower da questo Natale 2021 vai gente bye 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 bye